Soprattutto per le vittime innocenti di questa città, Napoli è sempre di più la città della vita, della cultura, della pace e quindi non possiamo più consentirci tentativi di occupazione violenta della città come è accaduto l'altro giorno vicino al fuoco mare o come è accaduto altre volte in altre parti della città. Numerose sono state le operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato all'arresto di pericolosi esponenti, 120 pericolosi esponenti della criminalità organizzata per proseguire nell'attività investigativa connessa all'accontanamento del giovane attuale che ha visto assicurati alla giustizia. Grazie 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 Grazie